Gennaro, siamo giunti alla tredicesima edizione di Festa Vico, quest'anno il tema è Verso Vico. Che cosa ti aspetti da questa edizione? Che sia molto di più che un successo. Di pubblico, di chef, di cucina, di solidarietà. Sono molto ottimista. E soprattutto dobbiamo ringraziare tutti quelli che credono che Festa Vico sia un momento speciale, perché sono proprio loro che lo rendono speciale. Grazie.